Pepe Rosati e Libro, siamo nello spogliatoio. Un attimino Antonio. Ok. Allora mister, direi oggi a forse, non so come dire, disastro in MKE, insomma, cioè 11 contro 9, alla fine purtroppo il risultato è quello che ho a conto, siete riusciti ad andare in svantaggio a un solo giocatore, io ho detto conversi in cronaca diretta, via con la sua furbizia, scaltrezza, contro questa giocatura, diciamo. Sì, purtroppo nel calcio si deve mettere la palla dentro, siamo qua sempre a parlare delle stesse cose, regaliamo sempre un gollo come è successo domenica a Filogasso, siamo andati sotto dopo 18 secondi con un traversone lungo, oggi sono di nuovo qua sempre a commentare un solito errore, un passaggio indietro di un nostro difensore, ammesso con la Cina, con il portiere, abbiamo perso la partita. Purtroppo stiamo pagando questa, alla prima, alla prima, alla prima disattenzione, ogni volta andiamo sotto. Siamo stati bravi a crederci, poi ha fatto tutto quanto il Cotronei. Cotronei invece si è innervosito sul vantaggio dell'1-0 e sono rimasti in 9 da soli, hanno fatto tutto loro, sono riusciti a rimanere in 9. Siamo entrati in partita, siamo riusciti a fare l'1-1, ormai la partita era spianata, mancava ancora mezz'ora, pensavo che la partita era vinta. Giocava solamente uno come conversi là davanti, che oggi, come hai detto bene tu, ha giocato conversi con tre difensori miei, è riuscito a fare un Euro-goal, da là poi ho visto una squadra, il Cotronei che si è chiusa bene, ma si è chiusa bene in che senso? Quando tu là davanti alla porta, non riesci a mettere la palla dentro, viene tutto difficile. Purtroppo è un momentaccio per noi, questa laguna là davanti e i ragazzi si scoraggiano, perché una volta, due volte, arrivare davanti alla porta, non mettere la palla dentro, poi c'è uno scoramento generale. Però io ho visto la partita, cioè ognuno la vede come vuole la partita, permettimi, insomma l'ho visto tante partite. Vedevo che tu ti sgolavi dalla panchina, volevi aprire il gioco, volevi che almeno gli esterni stessero dove dovevano stare, giustamente, per aprire il gioco, e invece poi i tuoi giocatori si incapurivano in questi traversori dai 50 metri, 60 metri, cross al censo, che erano sempre in balina o del portiere o dei centrali. Ma cos'è? Sti ragazzi hanno perso la testa? No, non hanno perso la testa. Dall'altra parte c'era un cottronei ben messo in campo che ha pensato solamente a chiudersi e si è chiuso bene. Ti ripeto, siamo riusciti ad andare tre o quattro volte a cercare di fare prima l'1-1, ci siamo riusciti e il 2-1. Non ci siamo riusciti. Purtroppo una squadra giovane, non abituata a giocare, oggi mi sono accorto che non ero neanche abituata a giocare l'11 contro 9 e ci siamo accorti che ci siamo, come dici tu, giocavamo sempre centralmente. Ho spostato due persone buone, con i piedi buoni, per saltare l'uomo sulla destra. Infatti il gol è venuto sull'esterno. La prima volta che Follano è riuscita a saltare l'uomo abbiamo fatto l'1-1. Pensavo che si era incanalato in una certa maniera la partita. Infatti abbiamo avuto un altro paio di occasioni da poter fare il 2-1. Poi, come hai detto tu, una grandissima giocata di un giocatore come Converse. Non è il caso del capocadiniere della promozione, ma davanti ha lasciato di stucco due nostri giocatori in questi campionati quanta uno come Converse e l'aglio della bilancia. Quello che dicevo è il cambio di questa squadra, Giuseppe, nel senso che prima la squadra giocava, girava palla, teneva sempre il pallone, li impegnava. In questo caso, l'11 contro 9, era questo l'essenzialità da fare. Eh sì, ma abbiamo perso dopo un minuto il nostro uomo faro pure Costantino. Costantino, diciamo che è il nostro giocatore in mezzo al campo più importante e rappresentativo. Per perdere Costantino dopo un minuto abbiamo perso quel faro in mezzo al campo che poteva fare queste giocate che dici tu. Sia Regola che Procopio sono due buoni giocatori e tanti portatori d'acqua però non hanno avuto questa furbizia da poter girare la palla da destra a sinistra ed è questo è quello che ci è mancato. Purtroppo ripeto le partite le voglio perdere io io volevo vedere un buon contro noi che veniva qua ci chiudeva e gli faceva due gol e se ne andava a casa. Purtroppo sono sempre a parlare sempre delle solite cose un errore che regaliamo sempre l'1-0 che era la forza di questa squadra adesso si è perdita non è questione una volta andiamo a parlare del portiere una volta andiamo a parlare del centrale una volta andiamo a parlare del terzino però ogni domenica siamo qua sempre ad andare sotto di un gol ci regaliamo sempre un gol vi ripeto io sono contento se gli avversari ci fanno i gol ma facilitare a spianare la strada come stiamo facendo onestamente io personalmente non ci sto infatti parlerò con la società parlerò con i giocatori adesso vediamo un attimino di fare il quadrato tutti quanti perché se dobbiamo stare un pochettino più attenti anche perché è gente che ha fatto la promozione hanno fatto ben poco dobbiamo svegliarci e capire subito cos'è la promozione perché abbiamo beccato tre squadre di promozione e siamo andati sotto con tutte e tre queste squadre all'inizio forse abbiamo beccato squadre ancora che si stavano attrezzando o come noi non avevamo la mentalità di promozione vedi la Silana e vedi il Soverato che si stava organizzando e vedi l'altra squadra di Cosenza che veniva dalla prima categoria e quindi è stata ancora facile come abbiamo beccato tre squadre di promozione che hanno capito com'è il campionato di promozione perché io ho visto gente del Cotronei ho visto 5-6 persone che uscivano fuori con i crampi a fine partita quindi senza sostituzione senza niente pare a rimanere in nove e correre fino alla fine quella è la mentalità della promozione se noi ci rendiamo conto subito ci mettiamo con umiltà e capiamo che la promozione è questa è sacrificio sacrificio e attenzione potremmo uscire fuori da questa cosa beh insomma abbiamo capito che c'erano le pulche di Rosati e però domenica questa partita non ti aiuta per Luzzi eh no ma prima o poi deve girare può darsi che può darsi che andiamo a Luzzi e facciamo tre gol a Luzzi e tutta la fortuna che ci sta girando in questo momento può darsi che a Luzzi la troveremo con tranquillità a Luzzi che c'erano